Buonasera a tutti, bentrovati a quella che è la prima puntata della nuova stagione dell'intervista speciale, il format di Rete Sole che riparte per tenervi compagnia nel corso dell'anno. Ogni mercoledì sera attraverso interviste della durata di mezz'ora che vengono realizzate o nei nostri studio oppure da remoto, quindi in via telematica personaggi legati a vari settori come la politica, la cultura, lo sport, la sanità, il sociale e non solo. Vi ricordiamo che questa trasmissione va in onda in contemporanea in Umbria sul canale 11 del digitale terrestre ed anche nella provincia di Roma sul canale 110. Rete Sole che è anche visibile da qualsiasi parte del mondo attraverso lo streaming, per vederci in streaming basta collegarsi al sito ufficiale della nostra emittente che è www.rettesole.it. Allora l'ospite di questa prima puntata che come avrete modo di notare sarà incentrata sulla letteratura e in parte anche sulla musica è Emilio Clementi che è il frontman della band Massimo Volume in attività dall'inizio degli anni 90 ma che è anche scrittore alle spalle numerose pubblicazioni tra romanzi e libri e di racconti. Alcuni mesi fa in primavera è uscito il suo ultimo testo intitolato Gli anni di Bruno che vi mostro. Ecco qui la copertina del libro e di questo volume parleremo ampiamente nel corso della prossima mezz'ora. Intanto visto che è collegato io vado a salutare, a dare il benvenuto al nostro ospite. Benvenuto, buonasera Emilio. Buonasera Alessandro. Allora come detto nel mese di aprile Playground ha pubblicato Gli anni di Bruno che è uscito a quasi diciamo 4 anni e mezzo, quasi 5 di distanza dal precedente Lamantin Perfetto pubblicato nel 2017. Nel mezzo c'è stata anche l'uscita di un nuovo lavoro firmato da Massimo Volume, il nuotatore pubblicato nei primi mesi del 2019 e poi promosso in giro per l'Italia attraverso una serie di tour organizzati sia negli spazi all'aperto sia in quelli al chiuso. Ecco la prima domanda Emilio è questa, a che cosa è stata dovuta principalmente questa, chiamiamola lunga attesa, comunque c'è da un volo di più di 4 anni per poter leggere nuovamente le tue cose nuove. Ecco quindi da cosa è di pesa maggiormente questa attesa per chi ti segue, per chi è un tuo estimatore, per chi ha amato in passato tutti i tuoi precedenti libri. Ma scrivere è un mestiere faticoso, per me forse in maniera particolare perché sono molto lento, perché credo che in una mia giornata lavorativa diciamo da in cui mi metto a scrivere credo che quando ho raggiunto 2000 battute per me è una giornata di successo, se sono 2000 battute poi riesco a tenere. Però è vero anche quello che hai detto tu nell'introduzione Alessandro, che nel frattempo c'è stato un disco e lo stesso anche la realizzazione di un disco è qualcosa di faticoso, di lungo e quindi è vero che quando uno vede i libri che ho scritto c'è sempre un passaggio di tempo piuttosto lungo tra l'uno e l'altro, ma lo stesso succede poi in campo musicale, perché con il massimo volume anche ci accusano, ma com'è che avete fatto così pochi dischi? Però in realtà poi nel mettere tutto insieme a me sembra anche un'attività, non ti dico frenetica, ma in cui ci sono pochi momenti proprio di vuoto totale. Chiarissimo, volevo sapere anche questa cosa, una pura curiosità, volevo sapere se sei, se ti ritieni uno di quegli autori che scrive continuamente e poi scarta oppure mette da parte, oppure se sei invece uno di quegli autori che scrive soltanto in dei periodi circoscritti? Ovviamente qui la scrittura è più intesa a livello narrativo, quindi a livello letterario non tanto musicale. Guarda, no, la seconda ipotesi, appunto la tua seconda ipotesi, nel senso che se poi ci penso, e però questo vale in entrambi i campi, sia nella musica che nella scrittura, anche lì nella musica per esempio io credo che in tutta la nostra carriera abbiamo scartato forse due o tre pezzi in trent'anni di carriera e quando capita ogni tanto ci chiedono un brano per un'antologia, no? Dice vabbè ma dateci un pezzo che avete scartato, guarda non abbiamo pezzi, non abbiamo mai scartato, tutto quello che c'era in qualche modo abbiamo cercato di, forse perché era così bello tutto. E lo stesso mi è successo, mi succede anche nella letteratura, non è che ho racconti da parte, o pezzi, sì, mi succede quando anche negli anni di Bruno poi di aver scartato alla fine, quando si arriva alla fine del libro, si crea comunque un montaggio, si lavora un po' sulla struttura se non ci si è pensato prima, o comunque la struttura non ha un equilibrio tale, cioè per cui bisogna tornarci sopra, alcune parti vengono scartate. Ma ecco, diciamo che non sono un autore pluripico, questo no, questo assolutamente no. Ecco, quanto tempo hai impiegato per chiudere gli anni di Bruno? Quindi volevo sapere il tempo complessivo impiegato da quando hai cominciato a buttare giù le prime parole a quando l'hai idealmente chiuso. Ho iniziato a scriverlo con l'inizio della pandemia e quindi è 2020, ormai l'ho dimenticato, è 2020. È vero che quando ho cominciato a scrivere sono tornato su alcune pagine che avevo, sì, quello è vero, l'avevo un po' scartata, mi sembrava che non andassero da nessuna parte. Ci sono tornato con un piglio diverso, più deciso e da lì mi ha dato un po' il lancio, mi ha dato la possibilità poi di raccontare questa famiglia. All'inizio poi non era nemmeno una famiglia, all'inizio era semplicemente un racconto sulla paura con cui mettevo in scena un padre e un figlio. E da lì poi è vero che un po' mi sono affezionato a questo padre e a questo figlio, più che affezionato ho capito che potevano darmi qualcosa di più, raccontarsi un po' di più. E da lì poi è nata un po' l'idea del libro con quella struttura anche un po' strana che passa dalla prima persona alla terza. Questo però anche per dirti che quando comincio a scrivere non ho mai le idee così chiare su dove andrò a parare e nemmeno di cosa nemmeno di cosa parla. Ti dirò di più Alessandro, io nemmeno anche di solito è necessario, io lo sento necessario un punto di vista anche etico, ma è difficile capire anche qual è. O perlomeno lo metterei anche, lo scambierei per una frase, per una pagina che ha un ritmo che mi piace. Quindi arrivano quasi prima degli aspetti che secondo me sono più importanti piuttosto che il senso morale, il punto di vista. Ecco, dicevi che hai cominciato a scrivere le prime pagine di questo libro quasi in contemporanea con l'avvento del Covid, quindi più o meno da quando è scattato per tutti i lockdown in quel mese di marzo del 2020 che in pochi dimenticheranno. Il Covid, la pandemia è di fatto presente non in maniera eccessiva, però comunque è tangibile all'interno del libro dove in alcuni punti si fa riferimento all'utilizzo delle mascherine e ad alcune precauzioni che sono state adottate in seguito a questo nemico con cui tutti ci siamo trovati a convivere. Ecco, ci hai pensato, hai riflettuto molto sul fatto di fare dei riferimenti al Covid all'interno di questo libro oppure ti sei ritenuto convinto, non hai avuto dubbi fin dall'inizio? No, ci ho riflettuto, ci ho riflettuto non solo da solo ma anche con il mio editore perché avevamo il dubbio finisce, la pandemia viene dimenticata, saranno pagine che diventeranno subito datate. Poi è vero che quelle pagine in cui in maniera mi sembra anche abbastanza discreta viene introdotta la pandemia, colora bene quella scena, quella scena un po' rarefatta, malinconica. E poi ho anche pensato parlando col mio editore e difendendo la scelta che avevo fatto, dico è vero, magari saranno presto, saranno datate, però poi alla fine ci sono dei libri miei in cui compaiono le lire, in cui uno entra in una cabina telefonica e lì mi sembra come cercare di fermare un'onda scelta con le mani, cioè tutto poi, tempo passa. Poi non lo so, se penso per esempio al cinema, Alessandro, dove ancora, adesso per fortuna siamo in un'altra fase, però ci si è ostinati a girare senza mascherine, invece mi ha fatto piacere di un film che non ho visto, ma credo rumeno, che è stato anche premiato, dove tutti gli attori recitano con la mascherina. Anche lì, fra qualche anno uno lo rivedrà e non mi ricordo nemmeno il titolo, dico la verità, però fra qualche anno uno lo rivedrà e chiaramente darà l'idea di un periodo storico preciso. Però mi sembra anche una scelta coraggiosa, perché poi il taglio di capelli, la barba che tutti e due abbiamo, che adesso va di moda, fra qualche anno sembreremo proprio quelli del no, del 2020, i ragazzi del 2020. Assolutamente, sono d'accordo con te. Allora, Gli anni di Bruno è un libro, possiamo dire in maniera sintetica, che si sviluppa sostanzialmente in un contesto familiare, ci si focalizza principalmente sulle vite di Nazarenne, di Sonia e anche di Bruno, che è il loro unico figlio, l'unico figlio di questa coppia. In un'intervista pubblicata sul web, in cui mi sono imbattuto durante il lavoro di ricerca, di documentazione per questa nostra intervista, per questa nostra chiacchierata, hai definito questo testo un romanzo tra virgolette borghese. Volevo sapere se a distanza di mesi dalla sua pubblicazione lo vedi ancora così, questo Gli anni di Bruno, quindi come un romanzo borghese. Sì, nel senso che se prendiamo la parola borghese non con un'accezione, che non vedo perché dovrebbe averla negativa, del resto è una famiglia, non sappiamo tanto di loro però in cui lei insegna, lui comunque ha un lavoro, quindi non è una famiglia, no? Non sono dei working class hero. C'è anche una famiglia, una famiglia piuttosto tradizionale fatta di padre, madre e figlio, quindi ti direi di sì, come ti direi di sì se tu mi chiedessi ma il massimo volume è un gruppo rock? Ti direi sì perché suoniamo col basso, la chitarra e la batteria, che è una formazione classica rock. Poi dentro quel contenitore magari uno cerca anche, di non essere così tradizionale nelle scelte che si fanno proprio anche stilistiche, però ti direi di sì. È una storia borghese, lo dico anche un po', sai, io vengo anche da, so, un libro per esempio come La notte del pratello in cui c'era l'epopea di una strada di Bologna, di personaggi anche piuttosto particolari, di case occupate. C'è qualcuno che mi diceva, ma com'è adesso racconti della famiglia? Mentre una volta raccontavi di emarginazione, però poi è vero che credo, cioè la sincerità, un termine che poi nel mondo così artistico della creatività c'ha poco senso, no? Chi se ne frega se uno è sincero. Però è il fatto che ho sempre raccontato quello che stava attorno a me. È vero che è cambiato l'ambiente attorno a me e non ci sono più case occupate, non c'è più quel mondo, adesso c'è anche la famiglia che comunque è diventata centrale. Stavo pensando che se vogliamo anche nel tuo precedente lavoro, il già citato, lì all'amante perfetto, anche lì tutto ruotava intorno ad un contesto simile, quindi una famiglia con i suoi lati oscuri, se vogliamo. Sei d'accordo, condividi con questa osservazione? Sì, sì, assolutamente. È toccato anche quel lato, no? Del lato oscuro, del mistero e dei segreti che comunque è presente anche negli anni di Bruno, che è una parte centrale forse della mia scrittura. Io credo poi un po' della vita di tutti noi, perché è impossibile essere, nessuno di noi lo vuole, essere così trasparente e certo è qualcosa di doloroso e affascinante, soprattutto per gli altri che ci sono vicini. Penso negli anni di Bruno anche una scena che è quella del piercing al freno, che è vero che è qualcosa, non è una tragedia che avviene all'interno della famiglia, però è qualcosa che un po' scopre un lato oscuro, insospettabile di un figlio e che comunque colpisce. Quello è un mondo che mi interessa molto. Andando ancora indietro, secondo me ce n'erano già i primi, forse non così sviluppati, ma anche nell'ultimo dio. Sì, forse stavo pensato anche a Matilde e i suoi tre padri, uno dei tuoi lavori precedenti uscito qualche anno fa. Effettivamente anche l'ultimo dio, a pensarci bene, l'ho letto un po' di anni fa, però si può concludere in questo filone. Nell'agere questo libro sorprende e colpisce il primo capitolo, che sembra quasi una sorta di prologo, quasi un'introduzione in cui a narrare è in prima persona la nonna di Bruno, che è quindi la madre di Nazareno, suo padre, e di Adele, che è ovviamente sua zia. Ecco, come mai una scelta simile? Quindi come mai apparire gli anni di Bruno con questo capitolo? Non è il primo racconto, il primo capitolo, lì dipende se lo intendiamo un libro di racconti un romanzo. Però non è il primo capitolo che ho scritto, ma una volta che, e ti parlo dopo che avevo scritto, il secondo capitolo che è La Capriora, insieme al lungo capitolo sulla madre o sulla nonna che racconta che è le nozze, e ancora lì ero incerto, dico ma scrivo un libro di racconti o scrivo invece un romanzo strano, lì ho capito che potevano essere collegate le storie. Magari, ecco, non ci sono i punti di raccordo, quelle che di solito vengono richiesti in un romanzo, no? Si passa da un luogo diverso, si passa da anche anni diversi, da una prima persona a una terza, però è vero in qualche maniera che arrivati alla fine del libro, io credo poi, certo, chi comanda il lettore ritrovi una certa unità. Però è vero che poi per cercare di dare in questa forma piuttosto strana, in questa struttura piuttosto strana del libro, per dare un appoggio maggiore al lettore, c'era bisogno che quel capitolo introducesse la storia, perché altrimenti all'interno del libro sarebbe stato ancora più strano. Devo dirti che io raramente mi diverto a scrivere, poi mi fa piacere arrivare alla fine di una pagina, di un racconto che ho scritto che mi piace, certo mi dà soddisfazione, ma il momento della scrittura è un momento piuttosto, e tre sacrifici. Lì, nel scrivere le nozze, mi sono divertito, una delle poche volte in cui mi sono divertito, perché sono riuscito a catturare quella voce, e mi è stato facile inanellare, non so come dirti, lo sviluppo della storia, quello che ha in mente questa anziana signora. Chiarissimo, allora Bruno, se vogliamo, resta inizialmente sullo sfondo, perché i primi due o tre capitoli sono dedicati, se vogliamo, comunque in quei primi due o tre capitoli viene dato maggiore spazio alle vite dei suoi genitori, quindi alla vita di Nazareno e a quella di Sonia. E due persone come tante, ecco, con le loro difficoltà, le loro fragilità, anche i loro malesseri. Ecco, cosa ti senti di dire a proposito di questi due personaggi? C'è qualcosa che ci tieni a precisare, a rimarcare? Chiaramente la storia del figlio si riverbera su di loro, su quello che abbiamo detto prima, le loro incertezze e le loro paure. E nello stesso tempo vediamo poi Bruno che cambia. Bruno che alla fine speriamo tutti che prenda una strada, che sia una strada, se non altro la sua strada. e raccontare Bruno, mentre Nazareno e Sonia potrebbero essere o quasi dei miei coetanei e quindi è sempre più difficile vedere la realtà attorno a sé. La figura di Bruno per me è stata forse quella più facile da raccontare perché avevo da una parte la mia adolescenza che purtroppo è lontana, che però insomma mi ha formato, sono anni che uno poi rimangono dentro. E nello stesso tempo però è anche vero che ho visto poi quella delle mie figlie, che ce le ho sotto gli occhi e anche quello è stato un bel banco di prova perché poi mi ha dato anche la capacità. Cioè uno dice essere adolescente negli anni, tra gli anni 70 e gli anni 80 forse non è la stessa cosa che esserlo adesso ed è in parte vero perché sono diversi mezzi, sono diverse le cose che si fanno. Poi mi è sembrato, credo poi, che invece c'è un nocciolo più a fondo che quello, questo misto terribile anche di insicurezza e nello stesso tempo giusto di, 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 di di, di, di di, di di grossa spregiudicatezza, no. Uno dice ma no, sono due, sono due sentimenti, due stati d'animo, due, due qualità diverse invece, invece, invece si toccano di pensare proprio di poter cambiare il mondo e nello stesso tempo pensare quello stesso di essere l'ultimo degli ultimi però forse quella è proprio l'adolescenza io se ci ripeto una cosa stupida sull'adolescenza sull'essere giovani e che non ci si ricorda quanto quanto la gente gli adulti ti trattino male cioè ti trattino entri in un bar entri in un posto non è mai un'attenzione un'educazione che poi trovi nell'età adulta quando è quello crea sofferenza e crea insicurezza e poi è un'età che spesso non ci si rende conto quando anche si dice madonna che bello avere i vent'anni però non ci si rende conto che ancora a vent'anni non si è formato non si sa cosa si diventerà nella vita e se penso anche la alla mia e lo vedo la stessa adesso che le mie figlie un po ma la mia io a vent'anni non avevo non avevo nessuna idea di sicurezza il mio sogno era quando mi sono trasferito in svezia in giro la gente mi diceva guarda c'è la volvo che assume degli operai per me il sogno era quello di diventare un operaio della volta la massima aspettativa quindi si vive anche nell'incertezza un'incertezza che che ti segna poi è bellissimo è bellissimo perché si è belli anche se non si è belli si è belli a vent'anni fisicamente si ha tanto tempo a disposizione si ha un'energia e una curiosità che poi si perde però non ecco poi c'è anche un lato più faticoso ecco a proposito di parlavi ecco proprio poco fa di come i giovani ventenni gli adolescenti anche vengono vengono guardati in un certo modo dai più grandi dagli adulti e a tal proposito pensando agli anni di bruno mi viene mi è venuta mi è tornata in mente un momento una scena del del film del pardon del romanzo in cui bruno siamo intorno alla metà del libro comunque inizio seconda parte bruno si rega con un amico all'interno di una farmacia per acquistare una confezione un ago sostanzialmente e viene insomma descritta un po la situazione in maniera abbastanza dettagliata con la farmacista che in una domenica pomeriggio qualsiasi forse un po annoiata un po sulle sue quasi si disinteressa di di bruno quando quando arriva al bancone e a proposito sempre di bruno volevo sapere a tuo avviso quali sono se ci sono quelle quelle dinamiche quelle situazioni familiari che in qualche modo lo segnano oppure lo lo condizionano mi viene in mente ad esempio il questo rapporto un po distanza con sua madre che lavora come insegnante a trento quindi distante da casa e che dal sostanzialmente nei giorni feriali da lunedì al venerdì lavora fuori e che riesce a rivedere suo marito e suo figlio soltanto nel fine settimana con la diretta conseguenza che per bruno passi la maggior parte del tempo con con suo padre e nazareno ecco quindi secondo te quali sono nella sua età infantile adolescenziale se ci sono appunto delle quelle situazioni che un po lo lo segnano ecco quello di quello è difficile alessandro da dirlo adesso parlo io da genitore è vero che uno è sempre anche una grande paura del genitore no di fare di fare un qualcosa che poi crei un trauma nel figlio anche una disattenzione non sapere da per esperienza poi è molto difficile capirlo perché ho visto in svilupparsi in terreni molto aridi degli splendidi fiori e delle splendide piante no e quindi non c'è mai una una ragione precisa è vero che l'ambiente conta l'ambiente che è attorno a te è vero che c'è un'ereditarietà nel libro si parla no di questa di questa di questa paura no di questa prudenza che loro a un certo punto i genitori prima cercano di combatterla poi invece alla fine si aggrappano alla prudenza del figlio alla pavidità del figlio perché il figlio non faccia dei gesti inconsulti però è sempre molto difficile giudicare e per insieme i vari aspetti cioè poi si cresce tu saprei io non saprei dire tu sapresti dirlo da con il tuo carattere la cosa poi è stato determinato no è difficile da tanto e poi si sbaglia lo stesso quindi poi dopo lì si scivola un po in un certo psicologismo un certo non mi c'è il rischio allora siamo siamo in chiusura l'ultimissima domanda prima di di salutarci ecco ad inizio trasmissione abbiamo accennato alla la tua carriera con i massimo volume in realtà servebbe una puntata a parte per per analizzare approfondire tutto quello che è stato il grande percorso di massimo volume il tuo grande apporto a questa band e l'ultimo tour dei massimo volume si è concluso tra l'altro poco prima dell'avvento del lockdown perché ricordo l'ultima tranche di concerti terminata addirittura tra gennaio e febbraio del 2020 era un altro giro che stavate facendo nei principali club del d'italia ecco a proposito dei di massimo volume volevo sapere se in questo momento è possibile pensare in futuro di non so di di nuovi concerti non so se se state magari componendo in questa fase dici quello anche quello che puoi dirci a proposito del del lavoro con con la band è vero che siamo stati fortunati perché abbiamo finito la tournée scoppiata la pandemia poi abbiamo fatto qualche data nei momenti di riapertura c'è stato anche per un anno io ho insegnato a reggio calabria quindi non era facile adesso più che un più che un tour l'idea era quella di metterci a ragionare del materiale nuovo poi più più è vero che quando hai una quando hai una carriera così lunga poi il disco la novità perde un po' di importanza perché poi porti un po' in scena da tua carriera non quindi credo che ne abbiamo bisogno però più noi che il pubblico di presentarci in una veste un po' più fresca rispetto a ai pezzi i pezzi che già abbiamo scritto bene molto bene attendiamo ovviamente con con la solita grande curiosità e anche con la con la grande con la grande gioia e caro emilio purtroppo è terminato il tempo a nostra disposizione io ti ringrazio davvero tanto per per questa mezz'ora insieme e visti i tuoi tanti impegni musicali letterali letterari e non solo non posso che augurarti buon lavoro grazie è stato un piacere grazie grazie nuovamente ad emilio clementi scrittore musicista ospite di questa nuova puntata dell'intervista speciale io vi rimostro nuovamente lo metto in favore di camera il suo ultimo libro gli anni di bruno pubblicato in primavera da playground di questo libro abbiamo parlato nel corso di questa puntata dell'intervista speciale vi ringrazio ovviamente per la vostra attenzione nel salutarvi vi ricordo i contatti principali per quanto riguarda rete sole potete iscriverci all'indirizzo di posta elettronica tg chiocciola rete sole punto it e poi ovviamente vedete l'icone qui sotto rete sole su facebook twitter ed instagram potete seguirci lì per essere aggiornati rispetto a tutte quelle che sono le nostre attività a partire dalle tante edizioni giornaliere del nostro tg umbra è davvero tutto dobbiamo chiudere ancora grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti